Eccoci qua, buonasera ragazzi, appena finita Juve Lecce, vinciamo 1-0 contro i Salentini che finora non avevano ancora mai perso in questo campionato Ci portiamo a quota 13 punti Una partita che io ho visto praticamente tutta, anche se non l'ho seguita moltissimo perché stavo facendo altro Però tutto sommato ho visto una Juve nel primo tempo abbastanza a fasi alternate, diciamo così Una Juventus che ogni tanto attaccava, aveva il baricentro alto, faceva la sua partita, attaccava E in altre fasi in cui magari stava dietro, cercava di ripartire Unica grande occasione è stata quella di Chiesa che è andata tanto e così dal palo Ha incrociato con il sinistro dopo una bella azione praticamente quasi tutta di prima Secondo tempo in cui la Juventus, sì, sostanzialmente non è che abbia fatto granché Però azione da gol che arriva con McKennie che mette un cross in mezzo Sponda di Rabiot e Milik in sacca da mezzo metro praticamente Il gol dell'1-0 Una Juventus che, ripeto, sarò molto breve quanto alla partita Una partita, ecco, un secondo tempo più del primo né caldo né freddo Una Juventus che non ha fatto una grande prestazione quanto a offensività Non ha dominato la partita, non ha avuto grandi occasioni, non ha avuto grosse chance Unica cosa da dire è che siamo sempre lì, che sbagliamo sempre gli ultimi passaggi Chiesa stasera un paio di volte si è incaponito quando magari poteva o rientrare sul destro Invece se n'è andato verso l'esterno Poteva passarla, poteva fare altre scelte diverse che avrebbero magari, che ne sappiamo Magari avrebbero portato al gol, a un gol del 2-0 Magari avrebbe avuto un'altra sorte, diciamo Però diciamo che tutto sommato la Juventus stasera non ha fatto una partita brillantissima Ma possiamo dire che non ha fatto neanche schifo Vinciamo 1-0 Abbastanza in scioltezza, possiamo dire, anche perché poi il Lecce non è che abbia creato grandissime occasioni Non ha fatto neanche un tiro in porta Scendi non ha fatto una parata stasera, penso di no Quindi spettatore non pagante Partita quanto a tiri, quanto a occasioni Possiamo dire dominata Però ecco, ripeto, non c'è stata grande superiorità nel gioco rispetto a Lecce Detto questo Una Juventus che si porta a 13 punti E prima di chiudere il video voglio dire una cosa Voglio tornare un attimo a sabato scorso Faccio una piccola parentesi E poi chiudo Perché ne hanno parlato in tanti, no? E voglio dire la mia sul fatto che Allegri ha detto quarto posto Dice noi dobbiamo arrivare al quarto posto Quindi non dobbiamo vincere lo scudetto Io già mi sono abbastanza espresso su questo, no? Il fatto che la Juventus quest'anno col fatto che non ha le coppe Deve obbligatoriamente provare a vincere lo scudetto Poi non ce la fa? Ci hai provato Intanto ci hai provato Poi l'Inter è sicuramente più forte Perché io è da lui che dico che l'Inter è più forte Nettamente più forte Secondo me quest'anno nostro malgrado vincerà il campionato Però come si può giustificare una sconfitta contro il Sassuolo Contro il Sassuolo, ripeto, che tu sulla carta sei nettamente superiore Dicendo che quest'anno dobbiamo arrivare quarti E tu giustifichi una sconfitta contro il Sassuolo Dicendo che tu quest'anno devi arrivare in zona Champions Devi arrivare quarti Beh, io la trovo veramente una scusa abbastanza banale Un po' come ne sono state trovate tante Nel corso di questi anni Anche quando si vinceva Soltanto che le cose sono sottolineate Soprattutto adesso che chiaramente si perde Ma è una cosa normale Però sono dichiarazioni che Diciamo Non mi piacciono perché Sono molto Come dire Non trovo neanche il termine adatto Diciamo che Mettono polvere sotto il tappeto Ecco che Dicono sì, vabbè Dobbiamo arrivare in quarti Quindi è giustificato perdere contro il Sassuolo È sbagliato È sbagliato Tu anzi A maggior ragione Queste sono le partite Che fanno fare i punti per arrivare in quarto Quindi ti sei contraddetto da solo Praticamente Va bene Con questa piccola parentesi Chiudo Questo è il quanto E noi ci vediamo alla prossima Ciao ragazzi Buona serata E fino alla fine Sempre Forza You Dai Ciao ragazzi Grazie.